in epoca di coronavirus bella iniziativa promossa dal club napoli veliazzurra di ascea mascherine griffate con i colori della squadra del cuore il cui ricavato andrà in beneficenza come spiega il presidente del club napoli veliazzurra angelo da giolillo l'iniziativa è data per dare un aiuto concreto alla popolazione asceota e per far sì che il club napoli veliazzurra continui le sue attività abbiamo deciso di realizzare delle mascherine con all'interno una garza protettiva in tnt con i colori sociali della squadra che amiamo le offerte raccolte con questa iniziativa in parte serviranno a far sì che il club non chiuda essendo venuta meno ogni possibilità di sostentamento per via della situazione attuale ma in gran parte verranno utilizzate per la spesa solidale organizzata nel nostro comune è un piccolo gesto un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà per via dell'emergenza coronavirus il club ubicato nella centralissima via oberdan ad ascea marina è intitolato a pino rizzo storico tifoso della squadra azzurra originario di ascea e poi trasferitosi con la famiglia ad agropoli il calcio che troppo spesso divide stavolta vuole essere un mezzo di unione per realizzare la rete più bella quando tutto sarà finito festeggeremo insieme continua ancora ad angiolillo come in un'unica grande curva di uno stadio chiamato italia un ringraziamento finale va al mercatone di mauro pica e alla merceria blabla per averci donato il materiale per realizzare le mascherine forza napoli forza ascea grazie